Alta velocità c'è la stazione RFI prevede una stazione tra Atena, Lucana e Sala Consilina, Angelo Raffaele Marmo annuncia nel primo tratto stazione a Sala Consilina. Vallo della Lucania, svuote i conti correnti della zia di Sabile, 59enne, accusato di peculato. Buone pratiche in agricoltura, il Gall Vallo di Diano propone il nuovo progetto per la valorizzazione delle idee di successo. L'universo tra le dita, il libro del matematico ipovedente Michele Mele contro i pregiudizi. Montesano sulla Marcellana alvia il progetto di pubblica utilità con i percettori del reddito di cittadinanza. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Emergono particolari sul progetto di fattibilità dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria che lo scorso 2 aprile è approdato alle commissioni di Camera e Senato consegnato dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. A renderlo noto, Angelo Raffaele Marmo, vice direttore del Quotidiano Nazionale. Nelle foto postate su Facebook si legge della volontà di RFI di prevedere una fermata nel Vallo di Diano. Ma vediamo. Lo studio di fattibilità che è arrivato nei giorni scorsi presso le commissioni di Camera e Senato competenti per la realizzazione dell'alta velocità che attraversa il Vallo di Diano guarda con occhio benevole il comprensorio valdianese e prevede che la stessa tratta non dovrà essere solo di attraversamento ma dovrà anche garantire fermate nel Vallo di Diano. La sperata notizia arriva da Vallo Più e precisamente dal giornalista Angelo Raffaele Marmo che da Roma ha avuto la possibilità di poter anticipare il progetto in cui viene espressamente citata la realizzazione di una fermata nel Vallo di Diano. Il vice direttore del Quotidiano Nazionale, originario di Casa Albuono, ha annunciato nella giornata di ieri la notizia che da tutto il territorio era sperata ma su cui vi erano anche molti timori. Si sta parlando naturalmente ancora di ipotesi dato che il tutto dovrà passare comunque dalla decisione della politica. Sta di fatto che Rete Ferroviarie Italiane non ha escluso il comprensorio valdianese ma ben prima dell'arrivo sul tavolo dei tecnici delle richieste dei comuni ha già ipotizzato ed ha anche individuato la possibile fermata dei treni di alta velocità nel Vallo di Diano e precisamente tra Atena, Lucana e Sala Consilina. E c'è di più. Nel progetto diffuso da Angelo Raffaele Marmo si legge anche l'apertura o meglio l'intenzione di Rete Ferroviarie Italiane di valutare la realizzazione futura di interconnessioni con altre tratte ferroviarie oggetto di analisi e confronto con gli enti territoriali competenti. Rete Ferroviarie Italiane non esclude neanche l'ipotesi dell'interconnessione con la tratta siciliano Lago Negro da più parti chiesta e oggetto anche di numerose delibere soprattutto provenienti dagli alburni. Un'ipotesi questa che non rientrerebbe pare nei progetti di realizzazione immediata ma che sicuramente con la presenza di una stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano potrebbe un giorno diventare realtà. E in merito al progetto di fattibilità presentato da RFI abbiamo ascoltato il vice direttore del quotidiano nazionale Angelo Raffaele Marmo originario di Casalbuono che spiega nel dettaglio l'ipotesi progettuale e assicura. Primo tratto della nuova opera arriva fino a Sala Consilina dove è prevista una stazione. Quindi ascoltiamo Angelo Raffaele Marmo. Ho avuto modo di vedere per ragioni professionali questo progetto predisposto da reti ferroviarie italiane e inviato dal ministro Enrico Giovannini che è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile come si chiama adesso il ministero dei trasporti alle commissioni di Camera e Senato che si occuperanno della cosa. Questo progetto è il progetto predisposto dai tecnici e dai manager di reti ferroviarie italiane e che riguarda l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria. Ebbene per quello che ci riguarda più da vicino come Vallo di Diano questo progetto prevede esplicitamente in modo diretto che l'alta velocità da Battipaglia in poi, questo primo lotto, arrivi sicuramente a Sala Consilina. Nel senso che c'è questo primo pezzo che non prevede alternative che va da Battipaglia fino a Sala Consilina e in questo progetto è previsto una stazione tra Atena, Lucana e Sala Consilina. Dopodiché da Sala Consilina in poi ci sono due alternative. La prima, quella in qualche modo preferita dai tecnici o comunque messa in primo pianto dai tecnici di reti ferroviarie italiane prevede che il percorso, il tracciato continui per Lago Negro e arrivi a Praia Mare e da lì poi si innesti sulla linea storica, sulla storica linea tirrenica con varie varianti eccetera eccetera. La seconda alternativa presa in considerazione è quella che prevede un tracciato che da Sala Consilina via Buonabitacolo Sanza arrivi a Sapri e si colleghi con la linea tirrenica a Sapri. Diciamo che in questo quadro però la cosa certa è che reti ferroviarie italiane con i suoi tecnici, i suoi manager ha preferito o ha considerato prevalente sia per una serie di ragioni tecniche, economiche e quant'altro, ha preferito il percorso che da Battipaglia arriva fino al centro del Vallo di Diano rispetto al vecchio progetto che prevedeva il passaggio dal Cilento. Quando questa ipotesi è entrata in gioco, è diventata plausibile, questa soluzione mi è parsa la realizzazione di un sogno da questo punto di vista perché l'idea che da Roma si possa arrivare nel Vallo di Diano in due ore e mezzo, in due ore e tre quarti, procedendo attraverso una rete ferroviaria, attraverso un treno, mi pare una soluzione che può davvero rimettere in moto una serie di driver di sviluppo dello stesso Vallo di Diano come non accadeva da decenni. Ora la cronaca, in meno di 10 anni ha svuotato i conti correnti della zia diversamente abile sui quali aveva la delega ad operare. Un 59enne, amministratore di sostegno di Salerno è accusato di peculato. La finanza sequestra beni per circa 240 mila euro. Vediamo i dettagli nel servizio. Beni per circa 240 mila euro sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno all'amministratore di sostegno di una donna disabile che ne gestiva il patrimonio su delega del giudice tutelare. L'uomo AFM e le iniziali 59 anni di Salerno, nipote dell'assistita, tra il 2010 e il 2018 si sarebbe impadronito con diversi bonifici eseguiti dal conto corrente della donna di gran parte dei suoi averi. Le indagini dei finanzieri sono partite da una denuncia dei cugini dell'amministratore di sostegno che alla morte della zia hanno ricevuto un'eredità di scarsa consistenza. E così, su disposizione della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore di sostegno di una donna diversamente abile, indagato per essersi appropriato quasi per intero del patrimonio dell'assistita, gestito su delega del giudice tutelare. Le indagini, avviate in seguito alla denuncia presentata dai nipoti della signora, si sono concentrate sul cugino che nel 2010 era stato nominato amministratore di sostegno della donna e da allora curava, tra le altre cose, anche la gestione di tutti i suoi averi. Nel corso di approfondimenti investigativi, le fiamme gialle della tenenza di Vallo della Lucania hanno esaminato i movimenti sui conti correnti della defunta sui quali il nipote aveva piena delega ad operare. Sono stati così ricostruiti negli anni dal 2010 al 2018 ripetuti prelevamenti e bonifici per importi notevoli, sempre a favore dell'uomo, senza apparenti giustificazioni e soprattutto senza darne alcuna comunicazione al giudice tutelare, verso il quale invece aveva l'obbligo di rendicontare tutte le operazioni inerenti l'amministrazione patrimoniale svolta. In particolare nel 2011 gli investigatori hanno addirittura scoperto un bonifico di 90 mila euro e due prelievi, rispettivamente di 35 e 25 mila euro, eseguiti nell'arco di soli tre mesi che non hanno trovato alcun riscontro nell'elenco delle spese dichiarate al Tribunale. Si tratta di denaro di cui, d'altra parte, l'indagato ha fatto perdere nel tempo qualsiasi traccia sui propri conti correnti e depositi intestati. Al termine degli accertamenti finanziari è stato quantificato in circa 380 mila euro l'ammontare complessivo delle somme sottratte alla zia dal 59enne di Salerno abusando del mandato ricevuto. Sulla scorta degli elementi indiziari raccolti la Procura della Repubblica ha emesso un decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza del denaro impropriamente utilizzato. Allo Stato i militari hanno cautelato due immobili nel centro di Salerno il cui valore attuale è stimato in circa 240 mila euro. Il responsabile dovrà rispondere dell'accusa di peculato, reato per il quale rischia una condanna fino a dieci anni e mezzo di reclusione. La Commissione Antimafia ha lavoro per le verifiche sulle vaccinazioni eseguite in specifiche regioni italiane e in particolare la Campania. Secondo quanto emerge i numeri dei soggetti a cui sono stati somministrati i vaccini aprono una serie di dubbi sulla regolarità ma soprattutto la possibilità che vi sia un alto numero di furbetti anche in Campania che ha saltato la fila. Nonostante i dati lusinghieri per l'asla di Salerno che è prima per vaccinazioni in regione, dai recenti dati emerge come la regione Campania, faccia registrare un notevole ritardo nell'effettuazione delle vaccinazioni tanto da risultare inserita nelle ultime posizioni per persone immunizzate. Di contro purtroppo si ritrova tra i primi posti nella classifica non molto lusinghiera di persone vaccinate e che rientrerebbero nella categoria altri, ossia non inseriti in nessuna delle categorie che sono state inserite come prioritarie per le vaccinazioni come over 80, personale sanitario, personale docente eccetera. La campagna è infatti al terzo posto per numero di vaccinati appartenenti a categorie non ben specificate, da qui la decisione della Commissione Antimafia di chiedere gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto le dosi di vaccino per verificare se tra questi vi siano soggetti a cui è stata concessa una corsia preferenziale. Nelle scorse ore il Presidente della Regione Campania ha annunciato di voler partire con le vaccinazioni di massa sulle isole del Golfo di Napoli. A tal proposito si registra l'intervento del consigliere regionale Tommaso Pellegrino che chiede di inserire anche il Cilento tra le priorità. Vediamo. Il Presidente della Regione Campania ha annunciato di voler partire con una campagna di vaccinazione di massa sulle isole del Golfo di Napoli, Ischia, Capri e Procida Covid Free. Questo è l'obiettivo della Regione per consentire l'avvio della stagione turistica in sicurezza. Un annuncio che però ha fatto traballare molti operatori del settore che operano nelle altre località turistiche della Campania. All'annuncio del Governatore Campano sono subito arrivate segnalazioni su altre aree di interesse strategico per il turismo. A tal proposito si registra l'intervento del consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diana Alburni, Tommaso Pellegrino, che intervenendo in occasione dell'incontro svoltosi a Camerota tra l'assessore regionale al turismo e i sindaci cilentani, ha sottolineato l'importanza strategica dal punto di vista turistico del Cilento e la necessità di mettere in condizione gli operatori del settore di ripartire. Il Cilento, ha dichiarato il consigliere regionale, può rientrare a pieno titolo nelle strategie per la ripartenza del turismo regionale, inserendolo tra le priorità del progetto di immunizzazione dei luoghi turistici. Manifestando il suo apprezzamento per la decisione di De Luca per la vaccinazione degli operatori turistici al fine di rilanciare il settore, si dice convinto che l'area cilentana possa rientrare nell'iniziativa in quanto da ritenere strategica per il rilancio dell'economia turistica campana. Siamo l'unico parco italiano, ricorda Pellegrino, ad entrare nella top 10 europea delle aree protette stilata da TripAdvisor, un modello in termini di sviluppo sostenibile per la capacità di creare economia e occupazione puntando su turismo, cultura e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Una realtà di particolare rilevanza nel settore turistico regionale, conclude Pellegrino, che ha visto realizzati numerosi investimenti da parte di chi ha creduto nelle straordinarie potenzialità di questo territorio, che in termini di ambiente, paesaggio, cultura, arte e tradizioni non ha nulla da invidiare a nessuno e che ogni anno continua ad affascinare e ad attrarre migliaia di visitatori. Gli operatori turistici del Vallo di Diano sperano di poter essere inseriti tra i soggetti appartenenti ad un'area turistica di rilevo, dato che al momento non si fa accenno ad eventuali vaccinazioni sugli operatori delle aree interne di interesse turistico, dove insistono siti come la Certosa di San Lorenzo, le grotte di Pertosa Auletta. Sul tema vaccini agli operatori del settore turistico campano è intervenuto nella giornata di ieri anche il consigliere regionale Corrado Matera, ex assessore al turismo. All'incontro svoltosi ieri a Camerota, alla presenza del suo successore alla guida dell'assessorato Felice Casucci, Matera ha avuto modo di ribadire l'importanza che tutte le aree in cui insistono luoghi di interesse turistico siano interessate da una campagna vaccinale capillare al fine di consentire la ripartenza in maniera omogenea dell'intero settore turistico regionale. Un argomento sottolineato ed evidenziato dall'onorevole Matera proprio in occasione dell'incontro che ha avuto come tema di discussione la programmazione della prossima stagione turistica. Nel corso dell'incontro, finalizzato alla programmazione condivisa della prossima stagione turistica, ha sottolineato il consigliere regionale tegianese, ho chiesto all'assessore al turismo della regione Campania, Felice Casucci, di farsi promotore anche per il sud della provincia di Salerno della campagna vaccinale alla pari delle altre destinazioni turistiche già individuate al fine di rendere sicuri i territori interessati. Partite da pochi giorni le attività di vaccinazione anche sulle persone fragili e l'asla di Salerno punta ad incrementare in breve tempo il numero di soggetti vaccinati. Da qui è partita l'iniziativa che coinvolge anche le strutture private che si occupano proprio delle persone affette da disabilità. Vediamo i dettagli. Raggiungere il maggior numero di soggetti fragili è questo l'obiettivo che spinge l'asla di Salerno in queste ultime ore verso nuove iniziative da adottare al fine di migliorare ulteriormente i numeri della campagna vaccinale. È di queste ore la notizia che l'asla di Salerno è la migliore asla in regione campagna per numero di vaccinazioni eseguite. Ora l'azienda sanitaria salernitana punta ad incrementare ulteriormente i suoi numeri avvalendosi del supporto anche dei privati e delle associazioni. In particolare l'aslo chiede il supporto delle strutture private che si occupano delle persone affette da disabilità. Si tratta di un'iniziativa adottata anche a seguito degli esiti del progetto che ha coinvolto nelle attività di vaccinazione anche i centri di alisi per consentire di raggiungere in breve tempo tutte le persone dializzate. Il progetto che ha portato alla vaccinazione dei pazienti dializzati direttamente nei centri di cura nel weekend di Pasqua, spiegano dall'azienda sanitaria, ha fatto registrare una grande partecipazione premiando la felice intuizione dell'asla Salerno. L'attività, peraltro, continuano, è tutto rincorso per assicurare la somministrazione a tutti i pazienti che si recano presso i centri di alisi ospedalieri e convenzionati a cadenza prestabilita. Sulla scia del successo ottenuto che ha consentito di raggiungere in breve un gran numero di persone fragili, l'aslo di Salerno ha voluto riproporre la stessa iniziativa sottoscrivendo un accordo di collaborazione con Anfas Salerno, l'associazione delle famiglie di persone affette da disabilità. Da ieri sono quindi partite le vaccinazioni per i pazienti con disabilità in cura presso le loro strutture. Da qui l'invito dell'azienda sanitaria salernitana rivolto a tutte le strutture che si occupano delle cure per pazienti con disabilità. Tutte le altre strutture che hanno in carico pazienti disabili o fragili operanti nel Salernitano, intenzionati a vaccinare direttamente i loro assistiti, scrivono dall'azienda sanitaria, possono inviare la richiesta all'aslo per definire insieme tempistiche e modalità. L'iniziativa punta a facilitare l'accesso alla vaccinazione a tali pazienti facendo in modo che si possano fruirne nei punti stessi di accesso alle cure, secondo tempistiche e percorsi già attuati e consolidati, evitando il disagio di attese e trasferimenti. Valorizzare e promuovere le iniziative nel settore agricolo che siano in grado di coniugare l'innovazione con la tradizione e questo è il nuovo progetto del GAL Vallo di Diano. Vediamo. Individuare quelle realtà agricole che possono essere considerate delle vere e proprie eccellenze nel Vallo di Diano e che possano anche essere considerate come esempi per un futuro sviluppo del settore agricolo. Intorno a questa idea si sta lavorando al GAL Vallo di Diano che nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo avviso nell'ambito del progetto Buone pratiche in agricoltura nel Vallo di Diano. L'iniziativa punta ad individuare 10 buone pratiche in agricoltura presenti nel comprensorio valdenese. Iniziative che siano veri e propri esempi in agricoltura capaci di connettere i processi innovativi con la tradizione. La candidatura, spiegano dal GAL a titolo esemplificativo, può riguardare ad esempio un prodotto innovativo che unisce uno o più ingredienti del territorio, il recupero e il riempiego di varietà autoctone, introduzione di nuovi metodi di coltivazione ecosostenibili, l'uso di tecnologia di impatto zero, eccetera. L'avviso per partecipare al Bando è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Vallo di Diano dove è presente anche la scheda di segnalazione, ossia la scheda da compilare spiegando in cosa consiste la buona pratica dell'azienda o dell'operatore agricolo. Le richieste dovranno essere inviate entro il 30 maggio 2021. Una volta raccolte tutte le schede si provvederà ad un'attenta disamina che sarà effettuata dalla struttura tecnica dell'ente. Le realtà selezionate, si legge nell'avviso, saranno oggetto di un'analisi approfondita sul campo da documentare e diffondere attraverso iniziative di comunicazione sui social e nel territorio. Una campagna informativa che proseguirà anche nel futuro con l'ente presieduto da Attilio Romano che utilizzerà per la stessa campagna i mezzi istituzionali che ha a disposizione al fine di favorire adeguata pubblicità e diffusione delle pratiche selezionate. Attraverso la visita sul territorio poi si provvederà a raccogliere ulteriori informazioni rispetto alla scheda di segnalazione al fine di conoscere in maniera più approfondita l'esperienza proposta, comprendere come le politiche pubbliche sostengano i processi produttivi, analizzare le ricadute economiche e comunicare a un pubblico più ampio il modello di sviluppo e le opportunità per il territorio. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti a tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale L'universo tra le dita e il libro del matematico ipovedente Michele Mele, ricercatore salernitano che mira ad abbattere i pregiudizi che ancora penalizzano ipovedenti e non vedenti. Vediamo i dettagli nel servizio. Allo scopo di contrastare i pregiudizi che ancora penalizzano ipovedenti e non vedenti, il saggio divulgativo L'universo tra le dita, edizioni Efesto, scritto dal matematico salernitano Michele Mele, gravemente ipovedente, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria all'Università del Sannio. Il libro raccoglie le storie di dieci scienziati ipovedenti o non vedenti vissuti negli ultimi tre secoli e mezzo. È sbagliato e discriminatorio considerare le discipline scientifiche inaccessibili per gli ipovedenti e non vedenti, afferma Michele. Lo provano le storie di questi grandi scienziati che, osservando il mondo dal buio o dalla penombra, hanno contribuito a scrivere fondamentali pagine della nostra cultura. Il libro racconta dunque le storie di dieci scienziati di cui sei vissuti tra la fine del XVII e i primi decenni del XXI secolo e quattro in vita. Non volendo scrivere, racconta l'autore, un'enciclopedia degli scienziati ipovedenti o non vedenti. Non ho scritto di tutte le figure in cui mi sono imbattuto durante la ricerca, ma solo delle figure sulle quali era presente abbastanza materiale d'archivio per una trattazione esauriente e per proporre riflessioni sul ruolo delle persone con bisogni speciali nella società. L'idea del libro è nata all'inizio del 2020. Fu un'amica, spiega Michele, a suggerirmi che con il mio background scientifico, il mio amore per la storia e il mio vissuto avrei potuto produrre qualcosa di socialmente rilevante. L'universo tra le dita è già la seconda ristampa e riscuote ottimi feedback. Ho ricevuto ad esempio, afferma l'autore, il messaggio di una mamma che dopo aver letto il mio saggio ha riacquistato la speranza per sua figlia, non vedente dalla nascita, e ha iniziato a raccontarle le storie di questi scienziati come favole della buonanotte, con risultati sorprendenti sul benessere della bambina. Voltiamo pagina. Ha preso il via Montesano sulla Marcellana il progetto di pubblica utilità con i percettori del reddito di cittadinanza. Sei i beneficiari che hanno avviato il progetto e che saranno seguiti da altri a rotazione. Vediamo. Hanno iniziato i loro lavori di pubblica utilità i percettori del reddito di cittadinanza di Montesano sulla Marcellana nell'ambito dei PUC, i progetti utili alla collettività previsti all'interno dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Rinaldi. In queste giornate difficili per la nostra comunità ha affermato, mi piace tuttavia segnalare l'avvio delle lavorazioni di pubblica utilità dopo un estenuante iter burocratico dei percettori del reddito di cittadinanza sull'intero territorio comunale. Il progetto avviato si intitola Curare per amare il territorio di Montesano e per realizzarlo il Comune ha fornito ai percettori del reddito di cittadinanza coinvolti tutte le attrezzature. I soggetti interessati hanno anche seguito un corso propedeutico al lavoro e sull'infortunistica. L'individuazione dei beneficiari è stata fatta in collaborazione con il consorzio sociale. Un segno concreto di partecipazione attiva ed equa alla vita della comunità dal valore etico e civile, ha spiegato il sindaco Rinaldi. I sei beneficiari che hanno avviato il progetto a rotazione saranno seguiti da altri in modo che tutti gli aventi diritto possano svolgere azioni a favore della comunità. Le progettualità sono concentrate su interventi per la tutela del patrimonio pubblico e sul decoro urbano. Montesano sicuramente beneficerà di questi lavori, ha concluso il primo cittadino, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile l'avvio del progetto fortemente voluto da tempo dall'amministrazione comunale. Novità adottati da ieri attivi due access point Wi-Fi gratuiti nell'ambito del progetto Piazza Wi-Fi Italia. I dettagli. Sono attivi da ieri due access point Wi-Fi gratuiti sul territorio comunale di Ottati. Sono stati installati gratuitamente nell'ambito del progetto Piazza Wi-Fi Italia promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'annuncio è stato dato dal sindaco Elio Guadagno, il quale ha specificato che uno dei due access point serve l'area dell'istituto scolastico, mentre l'altro serve la piazzetta adiacente alla casa comunale. Per accedere al servizio, che è illimitato e gratuito, è necessario scaricare l'app Wi-Fi Italia e registrarsi. L'app permette infatti a tutti i cittadini di accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli hotspot in corso di realizzazione nei comuni. Un servizio importante, dunque adottati per l'accesso alla rete internet, per navigare in sicurezza e maniera gratuita. Potrà essere utilizzato dagli studenti, ad esempio, e da chiunque abbia necessità di connettersi alla rete. Il progetto Piazza Wi-Fi Italia è infatti come obiettivo proprio quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice tramite l'app dedicata a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Con Wi-Fi Italia si crea quindi una rete nazionale di punti di accesso Wi-Fi gratuiti, sia integrando le reti pubbliche già esistenti, sia fornendo ad ogni comune italiano e anche agli ospedali coinvolti nel progetto dei nuovi punti Wi-Fi. E con questo è tutto per l'edizione di oggi, grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.